Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna fino alle 18 resterà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In Filippilico di attratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale 2 via Cassia senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 700 e 151 a Radicofani in provincia di Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!